La città è molto disponibile, è aperta, io ringrazio il Comune, le istituzioni e tutti che si prestano proprio per la massima accoglienza. Siamo garantiti sotto tutti gli aspetti e quindi credo che fare questo pellegrinaggio sia anche un segno, insieme a tutti gli altri pellegrini, di un popolo che vuole puntare sull'amore, sui valori positivi che sono proprio della nostra, non solo religione, ma io credo di ogni religione del mondo poi in fondo e soprattutto ecco anche della nostra comunità civile nel nostro paese. Così l'Arcivescovo di Torino, Monsignor Cesare Noziglia, custode pontificio della Sindone, al termine dell'anteprima dell'ostensione 2015 riservata ai giornalisti e alle autorità. È stato lo stesso Noziglia, insieme al sindaco Piero Fassino, al comitato organizzatore, promotori e sostenitori alle autorità ecclesiali e civili ad inaugurare il percorso di avvicinamento al Duomo, lungo 850 metri, che porterà i pellegrini davanti al Sacro Telo. Lungo il percorso, anche le immagini dei Santi Torinesi e Piemontesi, al centro la Sala della Prelettura è una rappresentazione fedele tridimensionale della Sindone per permettere la visita anche ai non vedenti. E domani, alle 11 in cattedrale, ci sarà la solenne concelebrazione eucaristica di inaugurazione, preseduta da Monsignor Cesare Noziglia con i Vescovi del Piemonte. Nel pomeriggio, i primi pellegrini dell'ostensione. Aspettiamo i pellegrini, siamo intorno al milione di prenotati, siamo nel trend previsto e siamo pronti ad accogliere con tutti questi volontari che si sono resi disponibili, sono 4.800 e che con generosità faranno in modo che tutti si sentano a casa.